allora buonasera a tutti io so che siamo leggermente in ritardo qualche minuto per la verità dieci però faremo tutto nei tempi giusti io mi chiamo Luca Dondoni del quotidiano la stampa qualcuno di voi magari mi legge tutti i giorni essendo torinese ma al di là di questo le persone che mi urge presentarvi sono Manuel Agnelli la mia sinistra e Stefano Senardi la ragione per la quale siamo qui evidentemente è che la musica è un lampo e non è solamente un titolo ma proprio è un concetto Stefano e che evidentemente questi due signori ha diverso titolo e per alcuni casi mi sembri dire allo stesso titolo di musica se ne sono occupati se ne occupano e se ne occuperanno proprio vivendola non solo come un lampo ma io userei la metafora che spesso nel libro usa anche Stefano un lampo che ti attraversa la vita ti fa sentire meglio perché la musica è proprio quella cosa lì per cui intanto subito darei la parola a Stefano per una saluta e per un racconto immediato sul cos'è la musica è un lampo Buonasera a tutti grazie per essere venuti e la musica è un lampo è una intuizione che ha accompagnato un po' tutta tutta la mia vita la musica in effetti può folgorarti la musica se ti colpisce poi non ti lascia più sappiamo com'è la musica e gli effetti che fa colonna sonora di momenti importanti della nostra vita di tante cose che abbiamo trascorso la musica è addirittura terapeutica non solo ti può salvare la vita in qualche modo e se non può salvartela ti aiuta a viverla meglio abbiamo visto anche durante la pandemia cosa è successo nel momento di maggiore depressione di panico di confusione attraverso la musica si è cominciato di nuovo a respirare un po' a mettere fuori la testa insomma la musica riesce anche ad unire e io mi sono appassionato alla musica fin da bambino e poi la musica a un certo punto è diventata una colonna sonora di quei momenti che molti di noi hanno avuto la fortuna di vivere negli anni 70 soprattutto anni in cui noi pensavamo che si potesse cambiare il mondo e così non è successo ma è stato bello almeno sentirlo provarlo e forse attraverso la musica attraverso la memoria di quello che c'è stato e questo è uno dei motivi che mi spingono a fare tante cose tra cui anche scrivere questo libro che nasce fondamentalmente da un traslok da un ritrovamento di una scatola di pass di biglietti e partendo da lì volevo recensire alcuni dei concerti che avevo visto poi alla fine sono andato altrove perché ho cominciato a raccontare alcuni ricordi alcune cose che sono che mi sono improvvisamente ritornate alla mente prima guardando i pass e i biglietti e poi verificando la corrispondenza del periodo con una raccolta di fotografie che avevo tutto qua memoria e esigenza di non dimenticare il libro è pieno di fotografie Manuel ci sono un sacco di fotografie di Stefano Giovane ci stanno un sacco giovanissimo che peraltro assomiglia moltissimo a suo figlio ti voglio dire ci sono dei momenti in cui stasera ti guardavo sei veramente simile ed è giusto che sia così ma Manuel dal punto di vista musicale insomma sei qui anche perché Stefano lo conosci bene penso che anche da parte tua una testimonianza ci possa assolutamente io buonasera tutti intanto Stefano è stato per me ma anche per tutta la mia generazione un punto di riferimento e ho capito leggendo il libro anche perché quello che lo rendeva diverso che lo rende diverso comunque dagli altri discografici che ho incontrato è che lui ama la musica e sembra una contraddizione invece è così la prima parte del libro in particolare racconta un po' dei vari concerti e peripezie come era organizzato il mondo allora la sua curiosità la sua passione per la musica che lo portava in giro a vedere concerti di tutti i tipi in posti e in situazioni impensate e lo portava ad avere quello che poi nella nostra generazione era ancora molto importante cioè una professionalità e una conoscenza approfondita della materia che non vuol dire studiare al conservatorio vuol dire conoscere quello che sta succedendo le line up le formazioni dei gruppi chi suonava cosa le collaborazioni fra i vari musicisti che tipo di batteria suonavano i batteristi eccetera eccetera cosa che i discografici di oggi ignorano completamente quasi quasi volontariamente e secondo me questo ha fatto sì che lui pur essendo poi un dirigente quindi avendo un ruolo di grandissima responsabilità imprenditoriale non abbia mai dimenticato perché era lì e perché stava facendo quello che stava facendo la visione è quella che manca secondo me oggi nel panorama discografico la visione non solo imprenditoriale per un futuro ma anche una visione culturale totalmente anche se sono imprenditori e devono fare quello non devono certamente cambiare la cultura però avere un certo tipo di visione e lui l'ha dimostrato in realtà conveniva anche a livello di mercato anche a livello anche a livello imprenditoriale e mi sono ritrovato molto molto da vicino nei racconti suoi nel modo di girare nel modo di scoprire la musica nel modo di essere curiosi nel modo di essere avventurosi nell'alimentare anche questo tipo di curiosità perché in fondo è un libro sulla musica ma è un libro anche sulla vita che è una vita avventurosa no la tua straordinaria lo dico io nel senso comunque vissuta sempre con una grandissima libertà vissuta sempre con una grandissima curiosità io sono stato chiamato qui da Stefano Senardi credo per un numero x di motivi il primo è l'amicizia che ci lega il secondo è la stima che ci lega il terzo è che ci siamo sempre divertiti tanto insieme quando è capitato di viaggiare per musica in giro per il mondo e faccio una parentesi graffa su quello che ha detto Manuel non dovete fare molti sforzi alla quarta pagina o alla quinta del libro vi renderete subito conto che qui si sta parlando di amore cioè quello che lega Stefano Senardi alla musica è amore puro fin dall'inizio perché lui racconta proprio di quello che ha fatto fin da quasi bambino in poi quello che dice Manuel e qui mi taccio e voglio assolutamente una testimonianza di Stefano è che avete di fronte il più dire userei raddoppierei il concetto diciamo l'enfant prodige della discografia italiana il più giovane presidente di casa discografica che si ricordi a mia memoria allora diventare presidente della Polygram ai tempi e diventarlo alla sua età poi ci direi tu quando eccetera e avere che fare con dei soloni e degli squali della discografia era piuttosto particolare ma questo suo essere giovane e avere questa pulsione del cercare musica e cercarla perché si amava la musica lo ha fatto subito stagliare rispetto agli altri cioè proprio lui lo notavi che era un'altra cosa e io adesso cosa posso dire mi metti un po' a perdere però è così io sì no ma in effetti non è che bisogna non ho pudore io sono anche una persona ambiziosa e anche vanitosa non sì sono stato il presidente più giovane d'Europa di una multinazionale in quegli anni e a poco più di 30 anni e governavo una società che e lo dico con un grande orgoglio perché ho creato una piccola abbiamo creato anzi perché io ho sempre dato un grandissimo valore alle squadre ho sempre pensato che fosse vera quella cosa che nessuno è perfetto ma una squadra può esserlo e questa è sempre stata una regola mia di di lavoro ma anche di anche di vita in qualche modo cercare sempre una coesione cercare sempre di fare dei gruppi cercare sempre di rispettare gli altri ho cercato anche di di poter offrire ai ragazzi e le ragazze che lavoravano con me perché eravamo veramente giovani io ero giovane ma anche quelli che lavoravano nel gruppo nel nostro gruppo erano 120 persone erano tutti giovani erano tutti motivati e ho cercato di fare per loro quello che certi capi o qualche capo che avevo avuto in precedenza non aveva avuto nei miei confronti per cui tutti gli incentivi possibili li creavo a un punto che siamo passati da un 20 rotti per cento al 60 per cento di quota di mercato in quattro anni non solo gli artisti volevano venire a firmare con noi ma anche gli impiegati volevano venire a lavorare in amministrazione non solo nell'ufficio artistico per cui anche perché i risultati erano clamorosi erano molto anche con un'impostazione originale anche se riflessiva perché facevamo riunioni anche di ore per decidere come fare un video come fare e lasciavamo ai vari protagonisti ai vari addetti una grande libertà sempre fino a un certo punto perché un senso di responsabilità per non mandare tutto a gambe all'aria l'avevamo ma devo dire che parimenti alla serietà professionale il divertimento insomma una bella quota del 30 per cento nel nostro lavoro era fondamentale noi ogni pretesto facevamo una festa ecco e per fortuna abbiamo avuto la possibilità di continuare a fare fino a quando ho dovuto lasciare la poligra ma ho ripreso fortunatamente anche con la piccola etichetta che avevo la nunna con la nunna addirittura eravamo arrivati all'assurdo ogni disco era una festa per cui era addirittura esagerata però non è anche tanto assurdo perché vedi che adesso con i release party ogni volta che fanno un disco lanciano un disco c'è il release party della mezzanotte del giovedì per cui anche qua adesso hanno mutuato la tua idea e l'hanno fatta diventare normale insomma cosa devo dire no è stato non c'è nessun rimpianto farei tutto quello che ho fatto mi è anche bello sentirsi dire di aver lasciato un segno perché in effetti io ce l'ho messa tutta e non volevo fare un libro anzi vi dirò una cosa che ho già raccontato in un'altra occasione forse a milano quando abbiamo presentato abbiamo fatto il primo incontro ma io a dire la verità tanti anni fa ho fatto ho scritto ho provato a scrivere un libro per mondadori che mi aveva già dato un anticipo pensavo di essere stato uno dei pochi a restituire l'anticipo un anno dopo perché quando poi è la persona che era questi ghostwriter che ti affidano per raccontare tutte le tue cose da me pretendevano più un saremo babilonia una roba un po più di gossip eccetera e poi io tra l'altro non so bene perché motivo avevo raccontato tanto delle mie dei miei successi delle mie cose eccetera eccetera era un medagliere insopportabile quando l'ho letto non l'ho buttato perché avevo fatto uno sforzo abbastanza importante a raccogliere tutti i ricordi però l'ho messo in un cassetto ho restituito i soldi non l'ho mai pubblicato questo è successo più di 15 anni fa ma dai davvero incredibile e invece quest'anno quest'anno no due anni fa ho avuto la sensazione proprio per la naturalezza con cui venivano fuori questi ricordi è capitato il primo ricordo è venuto fuori in India ho fatto un post su facebook ho detto ma tutto sommato non sarebbe male raccogliere tutti questi piccoli francobolli magari con delle immagini e poi quando ho fatto il trasloco che sono venuti fuori i biglietti a quel punto ho detto ma buttarli non posso faccio una raccolta di biglietti ma non lo so nel frattempo mi sono reso conto anche che avevo accumulato troppe cose per cui ho fatto anche una donazione della mia collezione di musica alla città d'Imperia dove sono nato e lì i pass che vedrete raccolti nelle 240 pagine del libro fanno parte delle 400 illustrazioni di cui il libro con cui il libro si arricchisce e addirittura 62 capitoli che io mi sono reso conto di tutto questo quando ho finito o quando pensavo di aver finito perché a un certo punto ho deciso di fare una scelta e di interrompere il libro a quel punto perché stava diventando troppo no? C'erano troppe cose è chiaro che poi quando chiudi un libro di questo tipo ci sono tante cose che avreste voluto mettere cose degli artisti di cui ti sei dimenticato persone di cui ti sei dimenticato che è ancora peggio che con gli artisti e a cui sei rimasto legato e poi c'ero appunto soprattutto persone che non ci sono più però ci vorrebbe anche un altro metodo di scrittura magari ci sarà una musica un lampo due scusa no? eh due non mi piace eh vabbè insomma la musica è un lampissimo la musica è un lampissimo mi piace sai di più Manuel come 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 è scoccata la scintilla come è nata l'amicizia fra te Stefano cioè dammi la commissione perché siamo qua raccontiamolo perché siamo qui ma allora lo ripeto lui era forse l'unico al tempo l'unico discografico in una posizione di rilievo ad essere stimato da noi perché eravamo abbastanza degli stronzetti diciamocelo perché comunque gli riconoscevamo non solo una professionalità ma anche proprio una capacità un ingegno ma sì ma anche una fantasia nel fare le cose eccetera tanto che non abbiamo mai lavorato insieme prima ma ci conoscevamo già e in realtà abbiamo cominciato a frequentarci dopo diciamo la carriera di Stefano quando in realtà io senza vergogna ho cominciato a chiedergli consigli su tante cose e lui è stato ancora una volta fondamentale a perché è disponibile per questa cosa e non è per niente scontato e quindi viversi non come una missione però come un ruolo quello che hai imparato quello che hai visto durante tutta la tua vita con la tua esperienza è importante a me è stato utilissimo anche soprattutto per l'esperienza X Factor dove in realtà e non solo però soprattutto per quella perché quello era un mondo completamente nuovo per me che potenzialmente poteva essere anche trasformarsi in un'esperienza disastrosa in realtà sono stato contento di poter approfittare io approfitto per dire una cosa perché poi per parlare un po' dell'ambiente in cui viviamo dove sempre poi ci si dimenticano delle cose per quello ogni tanto è bello scrivere al di là di come possano piacere o non piacere penso che voi lo sappiate che se non ci fosse stato Manuel ma non lo dico perché lì non ci sarebbero i Maneskin però devo dire che ecco no vabbè anche c'entra possono piacere o non piacere soprattutto ai dei duri e puri anche un po' come me ma io invece sono sempre contento quando si muove qualcosa e c'è qualcosa di nuovo Stefano qua si è messo però si è mosso una roba epocale ci stiamo parlando ma io adesso non apriamo un dibattito su quello però io aprivo un dibattito sulla memoria nel senso che certe cose è sempre meglio ricordarsela e dirle io l'ho detto perché è giusto dirlo nei confronti di Manuel perché poi questi diventano questi di coloro o altri molte volte poi spariscono non capita sempre in ambienti cosiddetti artistici o del mondo dello spettacolo che poi ci si ricordi di amici, di vecchi amici, di gente che ti ha aiutato di gente che ti ha dato dei buoni consigli per cui mi è scappata però dovevo dirla così e così l'hanno detta grazie sì va beh però Francesco lì abbiamo un po' di minuti contanti andiamo fuori tempo eh sì come quello che c'è sulla musica praticamente quando sono cittadini anche mia madre quando ho fatto un disco grazie 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 per la tua testimonianza allora noi invece andiamo avanti parlando proprio del fatto che come giustamente tu citavi Stefano insomma voglio dire Manuel e te avete avuto una commissione dovuta chiaramente a questa diciamo scintilla exfactoriana però insomma tu hai parlato prima mi interessava questa cosa perché è bello che tu possa raccontare anche questa queste curve della tua vita curve positive in questo senso perché dopo che hai smesso di fare il discografico con la polchera poi hai fatto la nun e lo racconti nel libro però poi hai fatto una serie di collaborazioni non ci dimentichiamo Fazio Sanremo la Caselli io mi ricordo che ti veni a trovare in sugara perché avevo da farti sentire un dio cioè ne hai fatte tante di cose quindi come sempre si dice si chiude una porta ma si apre un portone e nel tuo caso si è aperto un portone della creatività sì devo dire che non mi sono non mi sono fermato non mi sono è una bella batosta quando devi lasciare una posizione così importante come quella della Polygram per cui è stata una vicenda comunque estremamente interessante e gloriosa cioè è finita anche bene nel senso che è cambiata la proprietà cambiano i padroni cambiano anche i massimi dirigenti devono cambiare per forza di cose non ricordo perfettamente quando il mio capo di Londra che mi disse guarda che tu non sarai mai mai sarai messo nella condizione di di dover lasciare la Polygram perché tra i risultati i dipendenti che ti adorano i cantanti che ti adorano all'estero tutti i capi sono dalla tua parte invece poi capitò che la Universal comprò la Polygram la Universal aveva un capo a Londra che era stato socio di un discografico che era in Italia e a un certo punto mi chiamarono a Londra e dice guarda che nonostante ti abbiamo detto così a questo punto probabilmente e in due anni in due anni abbastanza faticosi ho venduto le mie dimissioni perché così funziona nessuno può mandarti via però a questo punto ti siedi intorno a un tavolo e dici va bene quanto mi date detto questo comunque non è una situazione piacevole perché non c'è denaro che paga nulla di quello che è se poi lo fai con passione come te ecco l'amore per il lavoro eccetera sì in effetti non ho mollato ho fatto di tutto di tutto adesso mi piace moltissimo ho iniziato con Skyart a fare questi documentari dei 33 giri eccetera ho fatto un documentario secondo me che sono di parte perché tengo per me su Franco Battiato che è andato nei cinema ha vinto il nastro d'argento ma in televisione per motivi ancora tutti da comprendere non è ancora andato e ci andrà al prossimo anno sto finendo un documentario sulla rivoluzione musicale di Pino Daniele ho fatto questo libro che che dà una soddisfazione a me è pazzesca non mi sono reso conto fino a quando ho iniziato le presentazioni a Milano nonostante abbiamo cambiato location all'ultimo momento abbiamo avuto problemi a rintracciare i libri e alla fine c'erano quasi 400 persone adesso mi dicono che a Mirafiore lì vicino ad Alba nella fondazione Mirafiore ci sono 3-400 persone e 200 non lo so 200 in lista d'attesa mi sembrano cifre mai viste mai immaginate e oltretutto questo libro finalmente io tra l'altro non l'ho riletto ho riletto solo i pezzi eccetera adesso mi piace mi piace da morire mi piace moltissimo mi sorprendo anche mi sorprendo ancora di più delle cose che notano e gli amici che mi accompagnano in questa presentazione che io spero che sia non infinita ma che arrivi al prossimo Natale vi dico la verità o ambizioni grandi siccome non uso molto la mano anzi la uso pochissimo ormai la mano destra mi sono fatto anche un timbro per i firma copie dove ho scritto insieme a Lampo ho scritto Stefano Senardi in tour e vorrei che questo tour continuasse e vorrei farmi tanti festival quest'estate vorrei andare in giro magari in forme diverse con qualcuno che suona con qualcuno che parla e voglio presentarlo e voglio diffonderlo perché dentro che attraversa tutto il libro oltre a questa passione per la musica c'è anche una una passione per la vita che spero di trasmettere ecco questo è sicuro posso aggiungere che ancora una volta il ruolo di trasmettere delle informazioni di trasmettere delle esperienze è un ruolo che fino a un certo punto è stato fondamentale per me lo è stato loro hanno sono riusciti a trasmettere a me e a quelli della mia generazione che poi non è così lontana siamo intergenerazionali in realtà non è che siamo proprio due generazioni diverse ecco meglio no sì cioè c'è qualche anno differenza non è che non potresti essere il mio padre oddio per come eri tu forse sì però al di là di questo il fatto di trasmettere delle informazioni è fondamentale ed è una cosa che si è persa perché io ne ho approfittato tantissimo di quello che ho recepito da tutta la controcultura agli anni settanta eccetera sull'autoproduzione l'autodeterminazione il fatto di farsi le cose da soli senza aspettare che te le facesse qualcun altro di essere convinto dei tuoi progetti senza aspettare che fossero di successo e nel fare le cose per stare bene per sentirti bene per fare qualcosa di sensato prima di tutto per te e non perché funzionava allora questo tipo di cose si è persa perché adesso si pensa solo ai numeri se un progetto non ha possibilità di successo non lo si affronta nemmeno non lo si discute nemmeno i ragazzi pensano solo a quello a riempire San Siro a fare più streaming possibile prima ancora di determinarsi a livello musicale e a livello di carattere allora questo tipo di libro e questo tipo di modo di diffondere diciamo le esperienze secondo me diventa fondamentale adesso come adesso ce ne sono sempre meno ed è una delle cose che anch'io voglio prendere anch'io ho cominciato a fare radio ho cominciato a raccontare delle cose ho cominciato a informare quelli che posso delle esperienze che mi hanno fatto crescere e di come ho fatto delle cose senza che qualcun altro le facesse per me hai detto una cosa Manuel che è verissima e sulla quale adesso sentiamo Stefano cosa dice perché proprio quello che ve lo dico da persona che si occupa di questo settore non c'è travaso di informazioni c'è un buco di almeno una quindicina ventina d'anni da oggi indietro quindi diciamo dagli anni 0 2000 fino ad oggi che proprio vede non so come sinceramente di botto non so dirvi perché è successo vi potrei dire come è successo ma sarebbe un discorso lungo però fondamentalmente quello che lui appena ha detto cioè la voglia di uno più giovane di chiedere a uno con più esperienza come si fa in questo momento non c'è cioè quindi un libro come il suo dove uno racconta la sua esperienza e racconta come ci è arrivato e cosa ha fatto e cosa gli è successo nella vita è un travaso di informazioni credo che tu Manuel abbia non solo ragione ma hai centrato perfettamente il punto e cioè è vero che non c'è questo travaso ma ci sono anche pochi strumenti perché lo facciano cioè noia perché si va tutti troppo veloci perché le cose succedono e succedono in poco tempo ma anche da parte di chi sa sembra esserci meno voglia di dire Stefano cosa dici beh sì dico che è straordinario come eravamo e come siamo adesso e apro una piccola parentesi che non è un caso che io faccia la presentazione accompagnandomi quando sono disponibili insieme a gente che mi piace e che può avere a che fare con noi nel senso che Manuel e Luca per motivi diversi sono due persone che si sono e si impegnano per la musica bella e la musica buona Manuel addirittura ha messo diverse volte a rischio anche una sua carriera o la sua immagine per sposare cause degli indipendenti perché io ad esempio facevo delle lezioni all'università Manuel non lo sai glielo dico adesso andavo a tingere un manuale che avevate tradotto di cui tu avevi scritto l'introduzione eccetera che era un manuale per gli giovani artisti indipendenti e io su questo l'ho saccheggiato perché io allora ero presidente di una multinazionale e certe cose le andavo a leggere per capire il punto di vista di quelli che poi si facevano il mazzo da soli partivano dai piccoli club eccetera altro problema che avremo presto se spariscono e Luca anche come Manuel è un'altra persona che ha difeso è una di quei professionisti che non solo hanno difeso la bella musica ma che ne sanno parlare sanno di cosa parlano la conoscono bene io cioè sono sono impazzito a leggere un libro di Luca dalle citazioni continue di questo libro che dici ma cazzo allora non sono un pazzo aver assimilato così tante aver ascoltato così tanti dischi così tante canzoni averli memorizzati e averne fatto tesoro quello che dicevo noi quando l'esempio dei Maneskin è chiaro c'era un cratere è stato riempito ma non è solo questo è che noi effettivamente quando pensavamo che la musica fosse la colonna sonora di un movimento che stava cambiando il mondo in effetti ne abbiamo viste di cambiamenti positivi in quegli anni era chiaro che era lecito sperare che si potesse fare un passo di più saluto il mio amico Johnson con cui ho avuto anche la fortuna di lavorare negli anni gloriosi della compagnia generale del disco ai tempi di Vamos alla Playa ma dicevo negli anni 70 e qui c'è un altro mio amico Enrico che saluto con cui sono stato a fare un paio di viaggi quelli importanti quelli che ti lasciano un segno e anche qualche cicatrice diciamo ma tutto in positivo io sono partito con lui e un suo amico musicista di Torino lui è di Torino ma il mio vicino di casa durante l'estate a Imperia siamo partiti con due cavalli e io ho detto che andavo a Limone Piemonte e siamo andati a Londra siamo tornati qualche mese dopo sempre per L comincia comunque per cui si andava anche a ascoltare la musica con coraggio in nome della musica si andavano a fare le cose più straordinarie in un'epoca in cui non c'erano neanche i telefonini eccetera c'era anche era anche un mondo meno pericoloso forse almeno così mi pare di ricordare ma è solo perché quando sei giovane non ti preoccupi del fatto che ci sia il pericolo tutto qua beh ma se mio figlio facesse una cosa di questo tipo a me verrebbe un infarto cioè non è sei il papà ma vabbè ma adesso ci sono anche tanti mezzi di comunicazione eccetera lì sparivi magari per delle settimane ma non è tanto quello volevo dire il motore che ci spingeva che era poi fondamentalmente accompagnato molto dalla musica noi diventavamo pazzi a comprare questi dischi a toglierli dal cielo a metterli sul piatto a cominciare a sentire scoprire ogni volta degli universi pazzeschi nuovi perché lì scopri c'era un passaparola che non riesco neanche a spiegarmi adesso perché internet alla fine c'ha un lato negativo pesante è troppo affollato è anche troppo affollato di stupidaggini di farsità di cose che ci fanno perdere tanto tempo noi cioè sapevamo che cosa succedeva dall'altra parte dell'oceano con delle radio pirata che trasmettevano di notte con delle piccole fanzine due riviste e eravamo a conoscenza di tutto poi comunque in quegli anni lì c'era anche un po' di porcheria ma cascavi spesso bene anche perché man mano che aprivi che sentivi un disco nuovo scoprivi veramente un mondo vogliamo parlare del fatto che negli anni 70 se pigliamo solamente pigliamo gli anni 70 70 79 io ne ho fatto motivo di discussione a un recente chiamiamolo simposio fa ridere un po' troppo barocco come termine però insomma ho dato un incontro e abbiamo fatto il calcolo che negli anni 70 sul 100% dei dischi usciti praticamente l'80% oggi sono dischi considerati della storia cioè proprio dischi seminali per cui era un decennio nel quale incontrare un disco cattivo era un po' difficile però io ti voglio chiedere una cosa perché mi è toccato il tasto di tuo figlio un secondo ma al di là del fatto della genitorialità tua io invece parlo della genitorialità vissuta tua cioè quella di tuo padre perché per chi ha letto il libro se vi capiterà di leggerlo tuo papà torna in più occasioni specialmente all'inizio cioè era quello che ti diceva ma quel disco lì dei Colossus fa schifo cavolo sono due sono lunghissimi ti romperai le balle quella cioè era spesso un tuo punto di riferimento o sbaglio perché ce lo metti dentro papà ma sì vabbè io a parte che sono molto cioè molto affezionato a tutti i miei familiari e sono molto affezionato come ai miei amici ma chiaro che il mio cuore è verso la mia famiglia ma mio padre che era stonato come una campana però era appassionato di jazz da domenica mi ricordo comprava questi pensate in queste dispense che si comprava sul jazz che si comprava queste 50 dispense in paravaggezza eccetera e la domenica l'ascoltavo con il padre sono sempre rapporti un po' difficili per cui ascoltavo però facevo finta di niente che non mi piacesse eccetera però sì ricordo quando sono andato a Roma ho comprato questo disco dei Colosseum doppio dal vivo figuriamoci comunque quel disco lì ho fatto fatica perché una volta bisognava studiare erano tanti dischi che contenevano dei suoni degli arrangiamenti delle cose completamente nuove e bisognava come capita con il jazz o con la classica bisognava educarsi per entrare dentro a quel mondo lì perché non è che uno comprava un disco dei soft machine tac e improvvisamente gli piaceva e molte volte ci violentavamo ci facevamo piacere anche cose terribili ma partiva il dibattito questa cosa che diceva mio padre che lo diceva un po' alla buona come poteva dirlo lui ma quanto hai speso sti soldi per comprare un disco anche doppio lui che sentiva i 45 giri di jazz presi in edicola io avevo un doppio album dal vivo dei Colosseum era continuato a non perdere tempo diceva alla fine aveva tanti anni dopo ho trovato Giancarlo Bigazzi che era un grandissimo produttore paroliere che si è occupato soprattutto di musica leggera però a livello geniale proprio veramente un grande della musica popolare moderna che diceva per ascoltare un disco doppio ci vuole un cassi integrato e in effetti era abbastanza era abbastanza vero perché ci vuole tanto tempo senti invece Manuel tu invece dal tuo punto di vista visto che appunto come lui dice addirittura io facevo il presidente ma andavo a rubacchiare fra le cose che tu scrivi a me questa cosa incuriosisce sei sempre stato così anarchicamente geloso della tua musica di quello che facevi e cosa ti ha portato ad esserlo cioè hai visto prima cosa hai detto noi eravamo un po' fighetti eravamo un po' stronzetti un po' stronzetti nei confronti dell'establishment ma cosa vi faceva essere così sicuri che voi foste dalla parte del giusto il fatto che quelle cose che facevamo ci facevano stare bene per cui si parla di sincerità espressiva poi riascolti alcune cose adesso che erano molto sincere e fanno cagare è una delle cose che dico alle persone con le quali lavoro i ragazzini che mi chiedono consigli quando mi dicono no ma questa non la cambio perché l'ho scritta in una notte di luna piena io gli dico ma fa cagare sì ma io sono legato a quel momento ma fa cagare cioè è una delle cose che ho imparato che la sincerità espressiva non rende belle le cose necessariamente però gli dà un senso forte no perché fai le cose adesso mia figlia suona in una band a 18 anni canta suona la chitarra e io sto cercando di trattenerli dal rendere professionale quello che stanno facendo perché adesso stanno suonando per il motivo giusto quando si trovano per due ore stanno bene lei me l'ha detto per due ore con queste persone in una stanza io sto bene è una cosa è la cosa più preziosa in assoluto è una cosa che io ho fatto fatica a ritrovare in tutti questi anni e forse finalmente l'ho trovata l'ho ritrovata perché poi facendolo come lavoro hai tante soddisfazioni tante cose belle però un po' questa cosa la perdi comincia a stare male per quello che c'è intorno comincia a stare male anche soltanto per l'ansia alla prestazione anche perché devi comunque fare le cose a un certo livello le devi far funzionare eccetera eccetera per cui la convinzione nostra era stiamo facendo le cose che ci fanno stare bene quindi sono le cose giuste poi l'aver avuto la fortuna di studiare in Inghilterra e andare spessissimo negli Stati Uniti mi ha fatto rendere conto che quel sistema là noi lo viviamo in una maniera loro sono bravi nel marketing a venderci le cose in realtà quello che fanno anche le scene super oltransiste negli Stati Uniti è difendere la propria musica non tutta la loro parte professionale io sono stato la Greg Calbi e Steve Albini a Chicago e lo sponsor ha pagato dei soldi perché ci fosse tutta questa ripresa dello studio con lo standardo dello sponsor allora non fregava un cazzo hanno accettato tranquillamente i soldi e lo sponsor l'importante è che noi non cambiassimo una nota di quello che facevano allora questa è un'altra lezione io ho sempre protetto la mia musica e tutto il resto ho sempre cercato di alimentarlo la parte professionale intorno per avere i mezzi per poter fare quello che volevo che lo ripeto forse un po' troppo spesso ma io ho fatto musica per fare quello che volevo nella vita non ho vissuto per fare quello che volevo nella musica sono due cose un po' diverse un po' diverse allora io ti giro questa cosa qua Stefano perché è fondamentale capirlo e avere una tua testimonianza sentito cosa ha detto Manuel io ho fatto questo perché mi fa stare bene e spingo i giovani a farlo perché cose che facciano li facciano star bene questo libro ti ha fatto stare bene e se ti ha fatto stare bene come credo ma me lo devi spiegare tu prima abbiamo lanciato una buttada ma questo libro è piccolo così cioè con tutte le cose che hai il lampissimo ci deve essere cioè qua vogliamo un due un'altra Roma però voglio prima che questo sia consumato dal maggior numero di persone possibili perché questo è la è la miccia diciamo poi se esplode qualcosa non c'è problema io figuriamoci a mani basse chiamiamo a nozze sì ci mancherebbe altro che lampissimo no no faccio lampi i tuoni e tutto quello che tutto quello che si deve fare non c'è problema questo però secondo me ha tanto spazio io lo sto scoprendo in questi giorni lo sto scoprendo bene anche perché racconta anche un periodo storico o una serie di periodi storici l'ambiente in cui ho incontrato determinati artisti l'ambiente non parlo solo degli anni 70 che sono cruciali per capire anche il libro perché poi si va a parare ai giorni ma anche quelle cose che riguardano i giorni nostri riguardano un po' al di là della della mia vita professionale o della mia vita privata è proprio il tipo di approccio che che per me è importante e e penso veramente penso per quello mi sono faccio un po' di fatica ma ho ho deciso di prima di tutto l'ho fatto con gli amici della Fandango perché ho fatto una scelta di cuore che e potevo anche avrei potuto anche farlo altrove contando magari quello che si dice una distribuzione migliore una compagnia un po' più forzuta eccetera però mi sono trovato in tempi negli tre quattro anni fa una giornata particolare ho incontrato nuovamente Domenico Procacci con cui avevo lavorato che è un mio vecchio amico e lui mi ha detto ma senti come va io ero una giornata un po' così mi dice ma perché non mi aiuti a fare la colonna sonora pensa che io ho fatto una cosa per cui ho studiato che non ho mai fatto in vita mia ho fatto il regista e dico il regista di che? dice il regista della squadra sono andato a intervistare i tennisti i famosi bla 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 di quelli che di Panatta quant'altro eccetera io che non mi intendo assolutamente non sono mai interessato di sport più di tanto però quella storia un pochino non la conoscevo così nel profondo però il fatto che Domenico mi avesse detto in quel momento quella mattina in un ristorante di Roma ma perché non mi dai una mano a fare la colonna sonora mi sono divertito come un pazzo perché mi sono reso conto guardando il girato che era fantastico di questi quattro intervistati senza sapere quello che aveva detto uno dell'altro perché finché non hanno visto il film non lo sapevano era Procacci che li provocava su questo mi ha detto quell'altro mi ha detto e questo grande bianco e nero questa storia bellissima che ha appassionato anche me io sono andato Procacci e ho detto guarda qui bisogna che tu cambi budget e metti mi dai a disposizione un budget non a me per il lavoro che faccio ma per comprare i brani perché se noi ci mettiamo tanta musica voi se la vedrete anche in quell'ottica lì questa serie c'è tantissima musica e aiuta molto questo è proprio io sono stato folgorato quando ho visto la prima scena di Panatta che dice sai stavo facendo non mi ricordo cosa i campionati italiani al Foro Italico a Roma è un certo punto poco in là un paio di chilometri più in là c'erano i New Trolls che stavano iniziando a fare il concerto grosso io pensavo dicesse che rottura di coglioni mi ha distratto tutta la partita lui ha detto cazzo non ho mai giocato così bene io lì mi sono illuminato ho detto allora ci vuole musica ci vuole musica ci vuole musica e è anche il motivo per cui voglio che questo libro sia diffuso perché ci vuole musica ci vuole musica e grazie allora a Stefano Senardi grazie a Manuel Agnelli vi ringraziamo per essere stati qui con noi immagino questa ora sia volata ma evidentemente il tempo è scorso perché ci siamo anche divertiti per lo meno anche io mi è piaciuto anche a me è piaciuto ascoltare questi suoi ricordi oltre chiaramente ad avere letto il suo libro per cui viva la musica un lampo e grazie a tutti ora per il firma copie ci diranno come si farà grazie buona serata ciao a tutti grazie